La Guardia di Finanza di Salerno ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a sette soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di una frode fiscale transnazionale dal valore di circa 12 milioni di euro. Gli accertamenti delle fiamme gialle della compagnia di Agropoli hanno interessato inizialmente il titolare di una società di commercio all'ingrosso di ecocombustibile, un uomo senza alcuna esperienza manageriale che già dai primi preliminari riscontri si è rivelato un mero prestanome. Come ricostruito dai finanzieri, nel corso delle investigazioni la ditta in questione era di fatto gestita da due professionisti di Paduli, in provincia di Benevento, che si avvalevano di tale schermo per effettuare gli acquisti di pellet da una fornitrice bulgara, in modo da rientrare nel regime di esenzione dell'IVA previsto per le operazioni intracomunitarie. Grazie alle indagini di natura finanziaria e tecnica è stato scoperto che gli approvvigionamenti del prodotto avvenivano direttamente dalla Bulgaria, ad un costo decisamente inferiore alla media di mercato. Giunta in Italia, la merce poteva essere rivenduta a prezzi concorrenziali, non avendo mai scontato il versamento dell'imposta, quantificata in 2,2 milioni di euro complessivi. Nel corso degli approfondimenti è peraltro emerso che una di queste società aveva pure ricevuto circa 100.000 euro di contributi a fondo perduto, in assenza degli specifici requisiti, sfruttando false dichiarazioni che attestavano un considerevole carlo del fatturato determinato dalla situazione di emergenza sanitaria. Le somme percepite erano state impiegate dagli indagati nell'acquisto dei beni più vari, tra cui un atto di lusso, un calcio balilla, capi da abbigliamento e prodotti elettronici. L'immediato intervento dei militari ha consentito di recuperare quasi interamente gli importi erogati, sottoponendo a sequestro un veicolo del valore di circa 20.000 euro e disponibilità finanziarie per circa 60.000 euro. Grazie a tutti.